E' un noto personaggio di Arezzo, 55enne, che a seguito di una notizia non qualificata gli agenti della Polizia Locale hanno iniziato le indagini, fin quando è stato individuato il ciclomotore in oggetto, che riportava evidenti danni riscontrabili sia sull'autovettura sia con le dichiarazioni rilasciate da testimoni. Scoperto e denunciato il pirata della strada di Via Piave ad Arezzo a tradirlo i danni sullo scooter compatibili con l'investimento. Che il conducente guidava senza titolo assicurativo e senza titolo abilitativo alla guida, senza patente. Lo scorso lunedì attorno alle 10 l'uomo in sella al proprio motorino aveva travolto una donna, una 47enne. L'investitore era poi andato a sbattere contro un paio di auto in sosta per poi darsi alla fuga senza prestare aiuto e facendo perdere così le proprie tracce. La donna, trasportata in codice giallo prima all'ospedale San Donato e poi alle scotte di Siena, aveva riportato un trauma cranico, fondamentali per identificare il pirata le testimonianze delle persone presenti al momento dell'incidente. La polizia locale di Arezzo ieri sera si è presentata a casa dell'investitore e gli ha notificato la denuncia per omissione di soccorso. Gli agenti della polizia locale stanno ancora effettuando indagini sulle motivazioni per cui c'è stata l'omissione di soccorso. Al vaglio dei vigili municipali è adesso anche l'ipotesi di un tentato scippo. Gli agenti della polizia locale stanno ancora effettuando indagini